Ciao a tutti! Oggi prepareremo i tortini all'ananas. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono uova, sale, zucchero semolato, olio di semi di girasole, farina di tipo 00, amido di mais, yogurt all'ananas, aroma di milimone o pasta di limone, lievito per dolci vanigliato, fettine di ananas e zucchero di canna. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le uova e lo zucchero ed azionare il bimbi per 5 minuti a velocità 4 senza misurino. Aggiungere lo yogurt, l'olio, l'amido di mais, la farina, l'olio, l'amido di mais, la farina, la pasta di limone o l'aroma di limone, il sale, il lievito ed azionare il bimbi per tre minuti a velocità 5. Versare il composto in stampini per crostatine da 12 centimetri, riempendoli per 3 quarti. Posizionare una fettina di ananas in ogni stampo. Spolverizzare con zucchero di canna. cuocere in forno pre riscaldato statico a 170 gradi per 30-35 minuti circa. le tortine sono cotte lasciamole raffreddare prima di rimuovere dallo stampo e servire. tortine all'ananas grazie e alla prossima ricetta costruire Grazie a tutti.